Siamo ormai vicini al Palio dell'Arca, la nuova edizione e siamo proprio su uno degli schifarieddi che si prepara ad affrontare questa gara competitiva ma non solo, anche di ricostruzione storica dell'arrivo delle ossa di Sant'Odoro da Masea nel porto di Brindisi. E siamo con una figura storica, Franco Romanelli, di questa iniziativa. Come stanno andando i preparativi? Insomma, i ragazzi anche hanno un buon risultato, abbiamo dei neofiti, dietro di me ci sta Alessandro che forse è la quarta volta che scende in acqua e mi sta mettendo in difficoltà, in serie difficoltà. È vero che io tengo già un'età comunque, vuol dire che stanno imparando ed era quel il mio obiettivo. Siamo alla ventottesima edizione quindi avere dei nuovi vocatori per me è un grande piacere. Che gara sarà quest'anno? Sarà sempre competitivo, anche se facciamo parte della stessa squadra dei Remori, siamo amici, colleghi, eccetera. Almeno così mi considerano, a me mi considerano un piccolo vecchio. Però al di là di questo, quando si sta in gara si combatte per vincere, con i migliori modi, insomma. Provando Alessandro a farti lasciare il Remo per qualche istante, ti chiedo cosa ti ha spinto ad accettare questa sfida, cosa ti affascina di questo mondo del Remo? Sicuramente l'amore per il mare, il piacere di stare in compagnia, di far parte di una squadra, di combattere tutti insieme per lo stesso obiettivo, è un qualcosa di veramente gratificante. Il palio ovviamente è una cosa in più, c'è tanta brindisinità al suo interno. Sì, assolutamente sì, lo si fa per mantenere le tradizioni, ci teniamo in maniera importante e sarà bellissimo poterci partecipare quest'anno per la prima volta, almeno per me.